Stiamo vicini, stiamo vicini, shh, 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 3 contro 1, solo da tutti gli occhi suoi, chissi non suoi pigli. Si sta camberatissimo, si sta camberatissimo, si sta camberatissimo, si sta guivendo la safe. 47 metri di fronte, tendente a destra, 44 metri di fronte. Dietro, 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 a destra! Craccato, craccato! Dietro di te, giusto. Mamma mia! Doi consecutivi! Ma che stanno tima cacchietto, fermi! Ora, ragà, mo dopo, quando esce sta schermata, stiamo in comunicazione col team rivale, a meno che non ha abbandonato, quindi possiamo sfotterle. Doi consecutivi, voglio, non mi è mai capitato. Manca a me. Dove ti fida? Eh, quando c'è la schermata nera. Dopo, dopo che escono i ulti qua. Ma l'ho gemboita. Ce maniamo. Ce maniamo. Mamma mia.